3 punti pesantissimi contro una grandissima squadra, sono senza voce come al solito, 3 punti pesanti che ci fanno andare avanti e ad allenarci con maggiore intensità e con la voglia di raggiungere l'obiettivo finale. Cosa è successo alla fine della partita? L'hai stato anche espulso? Sì, sono stato espulso giustamente, sono entrato in campo per un po' placare gli anni perché si era un po' accesa la partita, perché come ho detto mercoledì che sarebbe stata una partita maschile, maschile è stato. Mi sono un po' intromesso tra i giocatori per evitare il peggio, così non è stato per me purtroppo. Test all'Angria adesso? Sì, un altro test provante, duro, un'altra corazzata, però noi siamo abituati a giocare queste partite, anzi queste partite ci fanno fare poi quel salto di qualità sia mentale che agonistico.